Stasera sarò a Foligno a recitare l'Ulisse Dantesco, invitato dall'Accademia Dantesca di Foligno, che è la città che per prima ha stampato la Divina Commedia. Avvocato parlamentare, ex sindaco di Arezzo, oggi membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura. L'arte diventa per Giuseppe Fanfani il rifugio prediletto. La sua mostra, Anime Prave, che propone un suggestivo viaggio nell'Inferno Dantesco, dopo il debutto a Retino, sarà ospitata dal cassero di Monte San Savino. Il sindaco di Monte San Savino, anzi la sindaco, mi ha chiesto gentilmente di proporre anche a Monte San Savino questa mostra che evidentemente gli era piaciuta molto e l'abbiamo fatta entrare un pochino perché tutti i quadri non ci stavano, dentro quel delizioso spazio che è il cassero. Molto bello, molto antico, artisticamente ruffiano si potrebbe dire perché ha una capacità di attrarre e che è una locazione particolarmente interessante per una mostra. Gli ho detto di sì perché mi piaceva molto il posto. In quale parte dell'Inferno Dantesco si sente più rappresentato? Le categorie sono tante. Sono tante, sì. Ti potrei rispondere in maniera veritiera, ti potrei rispondere in maniera politica, ti potrei rispondere in maniera furba. Scegli te poi la categoria in cui mettere la risposta che ti darò. Io mi metterò tra i golosi. L'inaugurazione della mostra è prevista per le 18 del 22 di aprile e sarà visitabile fino al 25 di giugno prossimo.